Nelle precedenti video lezioni abbiamo visto che per gli stoici la filosofia è divisa in logica, fisica ed etica. Nelle scorse puntate abbiamo approfondito la logica e la fisica. In questa puntata invece ci soffermiamo sull'etica stoica. Secondo l'etica stoica ogni essere tende a conservare se stesso, in armonia con l'ordine perfetto del mondo. L'adattamento o l'appropriazione è lo sforzo compiuto dal singolo individuo per conciliare se stesso con l'ordine perfetto, razionale, immutabile e necessario. Ogni individuo cerca di conservare se stesso con l'ordine perfetto del mondo, grazie all'aiuto di due forze infallibili, l'istinto e la ragione. L'istinto aiuta l'animale a prendersi cura di sé e a sopravvivere. La ragione è la forza che garantisce l'accordo dell'uomo con se stesso e con la natura. Secondo gli stoici bisogna vivere la propria vita secondo natura, per l'appunto. Quindi la ragione è la forza che garantisce l'accordo dell'uomo con se stesso e con la natura. E la natura è l'ordine razionale perfetto e necessario, ossia Dio. L'etica stoica è l'etica del dovere, perché gli uomini devono vivere in maniera conforme all'ordine razionale, cioè alla natura. L'etica stoica è una ricerca razionale volta ad individuare il comportamento morale da perseguire. Il comportamento che gli uomini devono adottare deve essere conforme alla ragione, perché grazie ad essa gli uomini riescono a conciliare le proprie azioni con la legge della razionalità cosmica. Gli stoici sono stati i primi a introdurre nell'etica il concetto di dovere come conformità dell'azione umana all'ordine razionale del cosmo. L'uomo deve adeguarsi all'ordine razionale perfetto, immutabile e necessario scegliendo le azioni più appropriati da compiere. Per gli stoici il dovere si distingue in retto e intermedio. Il dovere retto è perfetto e assoluto ed è solo del saggio. I doveri intermedi sono comuni a tutti e sono realizzabili grazie ad una buona indole e ad una determinata istruzione. Il sapiente stoico è colui che conduce la vita seguendo il dovere retto. Il sapiente deve abbandonare la propria vita anche se si trova nel colmo della felicità, se si accorge di non aver compiuto il proprio dovere. Per questo motivo gli stoici giustificano il suicidio. Il dovere si distingue dal bene. Il bene compare quando la scelta indicata dal dovere viene ripetuta, mantenendo la propria conformità alla natura, fino a diventare una disposizione uniforme e costante, cioè una virtù. La virtù è il bene che raggiunge il sapiente dopo aver adempiuto il proprio dovere. Il vizio è il male in cui cade lo stolto. Tra la virtù e il vizio, come tra la sapienza e la stoltezza, non esistono vie di mezzo. La virtù è il solo bene in senso assoluto, in quanto costituisce la realizzazione dell'uomo nell'ordine razionale del mondo. Il vizio è il male in cui colui che non è sapiente cade. Esistono oltre ai beni altre cose che non sono beni, ma sono degni di essere scelte. E se sono le cose indifferenti, come ad esempio la bellezza e la ricchezza. Le cose indifferenti non sono beni, ma dei valori non sono necessari per vivere felici. Tuttavia sono preferibili ad altre, come ad esempio la miseria o la cattiva fama. I valori contribuiscono a vivere secondo ragione. La ragione è la forza che garantisce l'accordo dell'uomo con se stesso e con la natura. Le cose indifferenti sono dei valori che scelti contribuiscono a vivere una vita conforme alla ragione. Il valore è ciò che è degno di essere scelto. Il disvalore deve essere invece respinto. L'etica stoica, oltre ad essere l'etica del dovere, secondo natura ragione, è anche l'etica della negazione totale del valore delle emozioni. Le emozioni sono frutto di stoltezza e di ignoranza. Le emozioni non contribuiscono alla razionalità dell'ordine perfetto del cosmo, ma sono malattie che colpiscono gli stolti. Le emozioni sono opinioni o giudizi dettati dalla leggerezza tipica della stoltezza. E le emozioni fondamentali sono quattro. Due hanno origini dai beni presunti, la brama dei beni futuri e la letizia per i beni presenti. Due invece traggono origine dai mali, il timore dei mali futuri e l'afflizione per i mali presenti. Le emozioni sono malattie che colpiscono gli stolti e il sapiente è immune da queste malattie perché adotta l'indifferenza verso le emozioni, cioè l'apatia. L'apatia quindi è la condizione del sapiente che vive secondo ragione e si è liberato dalle emozioni tramite l'esercizio continuo delle virtù. E per te che cosa sono le emozioni? Soprattutto le emozioni sono un bene o un male? Per gli stoici l'ordine razionale del mondo dirige la vita di ogni singolo uomo e dell'intera comunità. La giustizia è l'azione che esercita la stessa ragione divina all'interno della comunità. La legge naturale della comunità umana si ispira alla legge superiore. Tutti gli uomini sono uguali e concittadini. Per gli stoici quindi esiste il cosmopolitismo. Tutti gli uomini sono uguali, sono amministrati dalla stessa legge divina e razionale e non esistono uomini liberi o schiavi. Per gli stoici inoltre l'unica forma di schiavitù è quella dello stolto verso le proprie emozioni. La ragione accomuna tutti gli uomini e li rende diversi e superiori rispetto agli altri esseri. La ragione universale fonda la legge naturale, uguale per tutti e immutabile in ogni tempo e in ogni luogo. Gli uomini devono considerarsi cittadini di un unico stato. In questa video lezione ho imparato che gli uomini devono vivere secondo natura. La ragione è la forza che garantisce l'accordo dell'uomo con se stesso e con la natura. La natura è l'ordine razionale, perfetto e necessario, ossia Dio. L'etica stoica è l'etica del dovere perché gli stoici sono i primi a sostenere che gli uomini devono adeguarsi e adeguare le loro azioni all'ordine razionale del cosmo. Gli stoici distinguono il dovere retto del sapiente da quello intermedio di tutti. Il dovere si distingue dal bene. Il bene compare quando la scelta indicata dal dovere viene ripetuta, mantenendo la propria conformità alla natura, fino a diventare una disposizione uniforme e costante, cioè una virtù. La virtù è il bene che raggiunge il sapiente dopo aver adempiuto al proprio dovere. Il vizio è il male in cui cade lo stolto. Oltre ai beni esistono i valori, cioè le cose indifferenti, che non necessarie per vivere la vita, tuttavia non sono malvagie e contribuiscono a vivere secondo ragione. L'etica stoica è la negazione totale del valore delle emozioni. Per gli stoici le emozioni sono frutto di stoltezza e di ignoranza, sono delle malattie che non contribuiscono a vivere la vita secondo ragione. L'apatia è la condizione del sapiente che vive secondo ragione e si è liberato dalle emozioni tramite l'esercizio continuo delle virtù. Ti ricordo come sempre di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per le notifiche. Inoltre ti invito anche sugli altri miei canali social Instagram, Facebook e LinkedIn. Ti aspetto nella prossima puntata sullo stoicismo a Roma.